Alberto Mezzetti, vincitore del GF 15, con il premio vinto risanerà i debiti di famiglia Il vincitore del Grande Fratello 2018 con il Montepremi che percepirà intende sistemare le finanze familiari. . Si è conclusa da pochi giorni la quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso, che ha visto trionfare Alberto Mezzetti, soprannominato il Tarzan di Viterbo. . 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 Alberto Mezzetti, classe 1984, nato e cresciuto a Viterbo da una famiglia agiata, resta orfano di padre all'età di 11 anni. Capello biondo incolto, è soprannominato il Tarzan di Viterbo, amante della musica, del calcio e del fitness e con una particolare passione mai nascosta per le belle donne. Per anni ha gestito insieme alla madre Daniela due negozi di abbigliamento nel centro della sua città natale, attività che successivamente ha chiuso a seguito di una importante crisi economica. Ora gestisce un centro scommesse, ma in passato ha avuto anche un'esperienza come modello a Londra, dove si era trasferito per circa un anno. Prima di entrare nella casa del grande fratello ha fatto la comparsa per il nuovo spot della team ed ora, terminato il programma, ha ricevuto una proposta per diventare testimonial di una casa di moda. Grazie alla vittoria nel reality di Canale 5, oltre a risolvere i problemi economici familiari, il Tarzan di Viterbo vuole rilanciare la sua vita e sicuramente le opportunità non gli mancheranno, visto che è ancora sotto contratto con la In The Mall fino alla fine del 2018, fatto che gli può garantire anche la possibilità di serate in discoteca e presenze nei salotti tv. Grazie a tutti! Grazie a tutti!